Bartolomeo Holtzauser, 1613-1658, pubblicò le sue profezie a Bamberg con il titolo Interpretazione dell'Apocalisse. Consacrato sacerdote nel 1639 e fondatore di seminari e istituti religiosi, cadeva spesso in estasi e faceva predizioni. Del periodo napoleonico disse La Chiesa e i suoi ministri saranno resi tributari, i prelati saranno dispersi o esiliati, i loro beni saranno sequestrati, il clero sarà esposto alle persecuzioni e infine tutta l'Italia sarà soggiogata dai francesi. Sotto la guida di un capo che sarà eletto imperatore. Perché? Commento Perché Holtzauser vedeva i fotogrammi che per lui erano il futuro nell'eterno presente.